3, 2, 1 Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao Con i piedi, con i piedi, con i piedi, ciao ciao Con la testa, con il petto, con il cuore, ciao 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 ragazzi, è arrivata la nuova funzione battitempo sull'applicazione GBR per giocare col vostro smartphone, basta fare così 3, 2, 1 E fate qualsiasi rumore Lui punterà e vi dirà quanto siete riusciti a fare in 10, 30 secondi o un minuto E occhio alla bomba I record vengono salvati e potete sfidarvi con i vostri amici Scaricate adesso l'applicazione GBR Cercate Famiglia GBR sul vostro App Store